ha ripreso a nevicare forte e sta coprendo a una velocità incredibile un minuto fa qui avevo spallato tutto ci sono già due centimetri di neve questa è la situazione qui stiamo in trincea questo è il mucchio della legna e quello è il tetto a 5 metri d'altezza c'è un metro è che ormai non sappiamo più dove metterla grazie